Dov'è la verità? Cerchio Chesed, attraverso Flora, domanda Dov'è la verità? Guida La verità della vostra vita non è come si presenta alla vostra mente. Chi è pronto dovrebbe sfruttare la sua mente supernormale per andare oltre il vostro umano punto di vista e intuire in che cosa consista il dono della vita.